Una statua in onore di una donna sull'isola Memmia, in Prato della Valle. La mozione dei consiglieri comunali Colonnello e Pilliteri è della fine di dicembre 2021. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale è della fine di gennaio. Dopo due mesi e mezzo si sa solo che la valutazione su quando e come erigere una statua a una donna spetterà a una speciale commissione. I tempi sembrano allungarsi. Tutte le 78 statue che si trovano in Prato della Valle a ridosso dell'isola Memmia sono dedicate a uomini. Si tratta di pontefici di origine padovana ma soprattutto anche gli studiosi, i primi autorevoli studiosi dell'Università di Padova, tanto per essere precisi. Ma nessuno ha mai pensato in questi secoli, perché di questo bisogna parlare, di dedicare una statua di queste a corredo dell'isola Memmia a una donna. La commissione dovrà decidere per esempio il luogo idoneo dove posizionare la statua, ma anche lo stile che dovrà avere l'opera d'arte e quindi il suo autore. Sarà coordinata dall'assessorato alla cultura e vi parteciperanno l'Università, la Sovrintendenza, la Commissione Toponomastica, la Presidente della Commissione Pari Opportunità, la Direzione dei Musei Eremitani e quella del Museo Diocesano. È un'idea interessantissima, quindi sì, sì, sono d'accordo. Se fosse la prima laureata a Padova Elena Lucrezia Coronaro Piscoppio, le andrebbe bene? Mi andrebbe bene, certo. Sarebbe ora, sì, trovando quella giusta però, non una qualsiasi. Qualcuno propone la famosa prima laureata di Padova Elena Lucrezia Coronaro Piscoppio, che ne pensa? Sembra un'ottima idea. Ci vuole. Senta, le andrebbe bene come si parla tanto della prima laureata qui a Padova, la veneziana Elena Lucrezia Coronaro Piscoppio? Sarebbe ideale. Se c'è posto per aggiungere una statua di donna famosa, sì, certamente sono d'accordo. Ma non come un imperativo assoluto che bisogna fare, magari togliere una statua per mettere una di una donna, questo no? Proverrebbe essere qualche statua intitolata a una donna, veramente. Sarebbe ora, insomma. Sì, per esempio Elena Piscoppio a Cornaro o qualche altro personaggio molto importante.